Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate passando tre belle giornate. Ragazzi, una chiacchierata un po' diciamo su quello che è successo ieri sera, visto che comunque ce ne sono di cose da dire, devo dire la verità, senza andare molto a toccare insomma le varie voti e cose varie. Volevo parlare un pochino con voi di quello che è successo ieri, perché la Juventus Serie ha avuto sicuramente una reazione importante dopo alcune gare in cui secondo me quella reazione non l'aveva avuta. Nel senso che la nostra stagione si era messa, non dico bene, ma in maniera abbastanza lineare con quello che poteva essere il finale di stagione fino alla partita con l'Inter. Poi tu con la partita con l'Inter hai fatto praticamente la miglior prestazione della stagione, ha tirato in porta di più, hai fatto più possesso, hai giocato bene, perché quella sera non ho letto nessun tipo di rama intera, neanche per quanto riguarda il gioco. Eppure hai perso, con un episodio, con un rigore, però tu hai perso. E io credo che quella stagione là purtroppo, o meglio questa stagione, quella partita lì, ti abbia condizionato un po' la stagione. Sono certo che quella cosa là ti ha comunque cambiato il percorso, perché se la Juventus avesse avuto quei tre punti in più, e non è solamente per i tre punti, ma è anche per il morale, mi sono sicuro che la Juventus avrebbe agito comunque in maniera differente. Ora, facciamo un discorso un po' generale su quello che sta succedendo per il finale di stagione. Prima di iniziare, ragazzi, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, mettere la like al video e attivare la campanella. Mi raccomando questa cosa della campanella, perché se voi non l'attivate purtroppo non va arrivare i video. E in descrizione ovviamente trovate i miei link social, sempre comunque presenti per, insomma, per quanto riguarda seguirmi su Instagram. Quindi venite lì, perché se c'è qualche avviso, qualche comunicazione, qualche video che perdete, se c'è qualcosa che vi devo dire, ve la dico comunque su Instagram. Diciamo che, come ho detto ieri sera, la Juventus dal punto di vista atletico è stata in difficoltà. La Juventus ha avuto meno possesso palla. La Juventus ha tirato verso la porta meno. Ma comunque si sta parlando di una squadra che ha vinto, è in finale di Coppa Italia, è riuscita a capitalizzare quegli occasioni che si è creata. Anche se secondo me, ragazzi, abbiamo capitalizzato pure poche, perché comunque al primo tempo avevamo avuto la possibilità, tra virgolette, di essere pericolosi. Invece ci siamo divorati vicino alla porta, gol su gol. E a prescindere da tutto, ragazzi, alla fine abbiamo vinto. Ha segnato Bernardeschi con quel bel gol che ha fatto. Poi, insomma, ha segnato anche lui, ha segnato ovviamente Danilo al novantesimo. Insomma, c'è stata una partita sicuramente strana in cui la Fiorentina effettivamente è stata fatta avanzare. La squadra, secondo me, l'aveva preparata proprio in quel modo là. Cioè far sfogare la Fiorentina, farla palleggiare e poi agire sulle ripartenze in virtù del fatto che comunque noi non avessimo effettivamente ieri un centrocampo dotato di individualità tecniche tali da consentire un possesso palla, secondo me, insistito. Quindi, di fatto, tutto quello che è accaduto per quanto riguarda la Juventus e tutto quello che è accaduto per quanto riguarda la partita di ieri ci fa capire tre cose, essenzialmente. La prima cosa è che alla fine, purtroppo, conta il risultato. Dico purtroppo perché ci sono partiti in cui tu giochi bene e perdi e ti disperi perché comunque dici cavolo, ma io ho tirato di più di loro, ho fatto più possesso di loro, sono riuscito a fare meglio di loro a livello di costruzione del gioco però loro mi hanno battuto forse per un episodio o per un rigore oppure per un tiro, eccetera, eccetera. Seconda cosa, diciamo che una cosa che ci insegna è che comunque questa squadra, in virtù dell'anno prossimo, in vista dell'anno prossimo, deve comunque cambiare. Cambiare mentalità, cambiare comunque assetto, non sto parlando di tattica, ma sto parlando del modo in cui noi entriamo in campo. Ieri la Juventus ha fatto una partita di intensità. Ci sono stati dei giocatori come Zaccaria, come Rabiot, cioè Zaccaria, raga, veramente è uno dei migliori acquisti degli ultimi anni attualmente. Giocatore totale, sta sempre in campo concentrato, sta sempre fresco, rapido, veloce, forte. Quindi è un giocatore sicuramente di qualità eccelsa, sicuramente non di qualità internazionale a livello di palleggio, ok? Ma nelle sue cose, quindi nel suo modo di essere, comunque lui ha delle qualità importanti. Perché sa sradicare, insomma, sa togliere palla agli avversari, è bravo nell'andare in profondità, è bravo nel costruire il minimo, quello che deve costruire. E poi ha fatto anche una grandissima partita, ad esempio un altro giocatore, che è De Ligt, ma ormai non fa più notizia. Ed ha fatto una grandissima partita anche Rabiot, che a sto punto, veramente, io non so cosa gli sia accaduto. Rabiot è un tipo di giocatore che io nella mia vita, nei due anni precedenti che ha fatto la Juve, gli ho visto fare due partite buone. Una col Milan in campionato e l'altra col Porto in Champions. Quest'anno siamo già alla terza-quarta, voglio dire, mi sta viziando, non so più che pensare. Cioè, ieri Rabiot ha fatto una partita, secondo me, straordinaria. Cioè, veramente non riesco neanche a spiegarmela, non so neanche come sia stato possibile che Rabiot abbia fatto quella gara. Però ho fatto sta che l'ha fatta e comunque bisogna essere onesti, bisogna premiare, bisogna fare complimenti, chi comunque gioca bene. Terza cosa che tu capisci dalla partita di ieri è che, essenzialmente, la Juventus è una squadra che, almeno, una cosa buona la sa fare. Ok? Tra tutti i difetti, tra tutti i problemi, tra tutto quello che c'è, tra la fase difensiva che, secondo me, non ha funzionato al 100%, tra quella offensiva che, secondo me, deve essere un pochino rilista, perché comunque c'è troppa, troppa, troppa imprecisione e troppi pochi, proprio poche alternative, diciamo così, comunque Rabiot è una squadra che sa soffrire. Cioè, è una squadra che, essenzialmente, sa cosa deve fare per quando entra in campo, quando si sente sotto pressione. È una squadra che, comunque, piano piano sta crescendo. Secondo me, la sofferenza all'interno di una squadra, di una partita, ti fa crescere, poi, capito? Non è per qualcosa, ma sicuramente ti dà quel qualcosina in più che, poi, tu puoi mettere in campo nei momenti in cui non soffri affatto. Quindi, soffrire per una partita, avere, comunque, dei rivali che ti mettono, che provano, comunque, a fare la partita, tu reggere, comunque, non è semplice. L'Avventus contro l'Italiano, che è un allenatore, secondo me, ottimo, sotto tutti i punti di vista. Quest'anno ha giocavo tre partite e ha vinte tutte e tre. Zero gol subiti. In tre partite. Quindi, qualcosa vorrà pur dire, la strategia di Allegri, sicuramente, ieri è stata vincente. All'andata ci siamo presentati con ancora più rivali e, ancora più, perdonatemi, assenti di ieri. Che avevamo, praticamente, non avevamo nessuno. All'andata avevamo, veramente, tipo, sei, sette titolari fuori. Facciamo una partita orribile, secondo me, la peggior partita della stagione, l'ho sempre detto. Ma, alla fine, passammo con quell'autogol di Venuti, su spunto. E lì pure ci furono delle critiche, che ci fu gente, insomma, che criticò, eccetera, eccetera. Però, la verità delle cose è che, alla fine del discorso, la Juventus è finale di Coppa Italia per la settima volta negli ultimi otto anni. Siamo una squadra che sa soffrire, siamo una squadra che sa valorizzare quel poco che ha, ma, comunque, non possiamo andare avanti così. Perché, comunque, a prescindere da tutto, già da Giuncio bisognerà fare un mercato diverso. E bisognerà, comunque, dare all'allenatore giocatori differenti e poi valutare il lavoro dell'allenatore. L'ho sempre detto, a prescindere da tutto, a me piacerebbe valutare il lavoro dell'allenatore basandomi su quelle che sono le qualità dell'allenatore. La squadra d'Allegri non sarà mai una squadra spettacolare. Ma io ho la sicurezza, e ce l'ho perché ho visto, voglio dire, la Juventus degli scorsi anni, ho la sicurezza che con i giocatori giusti, con i giocatori adatti, più che con i giocatori giusti, Allegri possa comunque riportare la Juventus a un livello internazionale. Con il tempo, con calma, con difficoltà. Certo, non ti sto dicendo che l'anno prossimo vince la Champions. Però l'anno prossimo è chiaro che l'obiettivo non può essere più il quarto posto. Non può essere più manco il terzo, ma devi puntare direttamente allo scudetto. E nel caso in cui tutto non puntasse allo scudetto è normale che poi verranno fatte delle valutazioni. Ma non solo su Allegri, verrebbero fatte delle valutazioni su tutte. C'è uno che non c'è niente contro nessuno. Quindi essenzialmente bisogna reggere, bisogna dare prosecuzione al progetto tecnico. Cercando comunque di dare all'ambiente una scossa. Cioè, cercando di dare all'ambiente quei giocatori che comunque potrebbero dare una mano. Non solamente giocatori buoni, come abbiamo fatto fino ad adesso, ma giocatori che fanno reparto. Aver preso Vlaovic, che ieri ha fatto una partita secondo me straordinaria in fase di sacrificio, ma non avere nessuno che lo sappia pescare. Aver preso Vlaovic, ma non avere nessuno che verticalizzi in profondità. Aver preso Vlaovic, ma non avere mai nessuno che ti fa fraseggi. È un po' sprecato, capite? Bisogna prendere Vlaovic e bisogna metterlo nelle condizioni di segnare, perché su dieci palloni che gli dai oggi, gli devi dare il cinquanta. Altrimenti, prendere giocatori da 70 milioni, da 75 milioni, è inutile se tu non rifornisci anche il centrocampo di... Cioè, se tu non vai a comprare giocatori a centrocampo che ti possano rappresentare un salto di qualità a livello tecnico, è impossibile chiedere a quell'attaccante di far tutto da solo. Così come è impossibile cercare di fare nozze con i fichi secchi. Ragà, Danilo non sarà mai un centrocampista centrale. È stato messo là a mediano perché essenzialmente non c'è più nessuno. Rabbio non sarà mai un centrocampista di qualità che ti gestisce la palla. Non è quello il suo ruolo. Zagaria, nemmeno. Cioè, quello che voglio dirti è... Puoi provare a contenere tutte le tue esigenze. Puoi provare a non farle vedere, ma prima o poi arriverà la partita in cui verranno fuori. E quest'anno le partite in cui le esigenze della Juve sono venute fuori, sono state parecchie. Nel senso, l'esigenza di avere un centrale di centrocampo, l'esigenza di avere una mezzala, l'esigenza di avere un terzino. Cioè, sono esigenze chiare, palesi, che comunque attualmente non vengono soddisfatte, non vengono notate dalla dirigenza e comunque a partire dal prossimo mercato dovrà fare la differenza. Perché se non farà la differenza nel prossimo mercato, ragazzi, state ben tranquilli che la Juventus... Io ho sempre detto, se la Juve sbaglia il prossimo mercato, la Juventus va all'interno di un circolo che la porterà a non vince niente per 15 anni. Hai sbagliato troppo in questi anni qua. Se tu sbagli ancora, in un momento in cui non puoi più sbagliare, stai ben tranquillo che... Poi non ti puoi lamentare da chiunque sia. Ma andiamo via allenatori, ma andiamo via dirigenti. Però il problema principale sta nella squadra, nella rosa, nei giocatori che non sono più all'altezza di questo livello. Qui, ragazzi, poi ieri è andata bene, ci è andata bene, abbiamo giocato. I ragazzi ci hanno messo tanta voglia, tutto quello che... Però se io vi devo dire che vedo bene la Juve, io non ve la posso dire, ve l'ho sempre detto, ma ve l'ho detta pure dopo la partita con l'Inter contro il Cagliari, che non la vedo bene. Tanta gente durante la partita con il Cagliari mi ha detto, e mentre l'abbiamo dominato, sì, certo. Però tu la sensazione che la squadra sia solita non ce l'ha avuta. Così come non ce l'ha avuta in altri momenti, ecco, tutto qua. E quindi va tenuta questa cosa qua, ragazzi. Va considerata questa cosa qua, perché è inutile che poi ci mettiamo a parlare di tecnici, di dirigenti, di presidenti. Non c'entra niente. Quelli sono discorsi a parte, che non c'entrano niente. Bisogna fare discorsi a parte. Ma nella vita di tutti i giorni, nel mondo di tutti i giorni, nessuno te va a dire che è normale, che la squadra che ha cambiato tre allenatori in tre anni cambia l'allenatore e la squadra non cambia mai. Cioè nessuno, ma anche un bambino di cinque anni, che comunque, voglio dire, ha una visione della vita completamente differente, non ha i strumenti, cioè non riesce ad analizzare le cose in maniera... Anche lui capirebbe che comunque va modificata la rosa prima ancora se tocca a dirigenza e allenatore. Prima ancora. Poi se pure la modifica della rosa, l'allenatore continua a collezionare i risultati qua. Allora sono il primo che ti dico, tesoro mio, deve andare pure te. Ma per adesso, per adesso, io tutto quello che vedo, sono lacune di rosa, ma non solo lacune di rosa per i presenti, ma pure sto fatto e se fanno male tutti. È un staff atletico, deve cambiare. Deve essere cambiato. Deve essere cambiato pure De Corsa. Altrimenti non c'ha senso continuare a parlare di sta cosa. Onestamente parlando, ragazzi. Poi ognuno fa quello che vuole, ognuno fa... fa le proprie valutazioni, ci mancherebbe altro. Fatemi sapere un pochino nei commenti che ne pensate voi, nel senso voglio sapere una vostra opinione. Io vedo anche nelle prossime gare, noi non avremo mai centrocampisti, non abbiamo mai giocatori giusti nel momento giusto della stagione. Tutti gli anni, nel momento topico della stagione, ci presentiamo senza giocatori. E' una cosa che ti dà fastidio, comunque. Perché non è che sia normale questa cosa che tutti hanno i giocatori a disposizione e tu non ce li hai mai. Perché non ce li hai mai, di fatto. Non ce li hai mai. Quindi bisogna riflettere innanzitutto dal punto di vista dei preparatori. Poi comprare giocatori diversi. Perché non ti vuoi presentare l'anno prossimo ancora con questi giocatori qua, eh. Non ti vuoi presentare più con questi giocatori qua. Siamo arrivati ad un punto in cui non ti puoi più presentare da questo punto di vista. Fatemi sapere un pochino, ragazzi, nei commenti cosa ne pensate. Perché sono molto curioso, ragazzi, di sentire le vostre opinioni.